Parte a Sapri il tesseramento al Partito Democratico, una nuova nascita che però deve tener conto della spaccatura interna al PD della città della Spigolatrice, che vede da una parte Giuseppe Delmedico, ex guida dell'opposizione in Consiglio Comunale ed ex primo cittadino di Sapri, e dall'altra l'ex sindaco Vito D'Agostino, una divisione le cui ragioni risalgono alla scorsa tornata elettorale, nel 2007, ancora prima che lo stesso PD nascesse, una crisi dell'allora centrosinistra saprese frutto di visioni diverse tra le anime dell'area politica, che portò alle scorse amministrative alla formazione di liste civiche. Pertanto il tesseramento al PD avviato ieri sera con un incontro presso il dopolavoro ferroviario di Sapri, e che ha visto la presenza del coordinatore del partito della provincia di Salerno, Nicola Landolfi, servirà per creare una sede operativa. Le diverse linee di pensiero infatti non possono privare la cittadina del Golfo di Policastro di un partito come il PD, questo quanto afferma Giuseppe Delmedico. Una comunità come Sapri ha bisogno di uno spazio di discussione come può essere quello di un grande partito come il Partito Democratico, e capacità di questo Paese e della dirigenza di questo Paese fare in modo che a Sapri il Partito Democratico sia interprete dei bisogni di una comunità e non delle posizioni di fazioni o di parti. Lo stesso Delmedico commenta così le scelte dell'ex sindaco D'Agostino nel PD. Le sue scelte nei momenti elettorali sono state chiare, molto lontane dal Partito Democratico. Se decide di ritornare a fare politica con intenzione, con propositivi interessi al Partito Democratico, è un bene per il Partito Democratico. L'azione amministrativa locale è un'altra cosa. Per Vito D'Agostino anche opposte linee di pensiero all'interno del partito non devono scandalizzare. Sempre per D'Agostino, le scelte che si faranno nel corso della prossima campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale di Sapri seguiranno altre logiche. Non credo che ci si debba scandalizzare se un partito grande come il Partito Democratico abbia varie anime al proprio interno che, come dire, democraticamente cercano di far prevalere le proprie posizioni. Uniti nella causa comune del PD, se il PD riuscirà a portare avanti una linea comuna, che è la cosa che sicuramente mi auguro. Poi ovviamente nelle battaglie locali sfuma un po' anche la connotazione politica. L'importante è che non si perdano di vista i grandi obiettivi.